Pikmi Pops, sento che c'è! Pikmi Pops, sorprese per te! Pikmi Pops, sembrano le galecca giganti e sono pieni di bellissime sorprese dolci peluche profumati morbidi, soffici e anche glitterati più di 45 peluche tutti da collezionare e tante sorprese per te! Pikmi Pops, colorati! Pikmi Pops, profumati! Pikmi Pops Surprise, gli originali giochi preziosi